E' giunto il momento di tirare fuori la mazza! Questa mazza che avevate capita a zozzoni, a schifosi! Perché andremo a fare un draft e sceglieremo le calciatrici più belle! Cosa importante, i gusti sono soggettivi, quindi magari qualcuno che piace più a me non piace a te o viceversa, giusto che sia così! Se nella scelta non c'è nessuna giocatrice, sceglierò il giocatore che più mi serve per l'intesa e per la squadra e sono costretto a scegliere le ragazze in primis! Anche se c'è Ronaldo e Fenomenon, Bappetri al Braiser, Gesù, devo scegliere l'oro non raro donna, eh per forza, ecco sì, le regole sono regole! Quindi lascia un bel like, mi raccomando, se vuoi supportare questa serie! E se raggiungiamo i 100 like, raga, lo faremo con le calciatrici e mani nella vita reale! Mentre qua sceglieremo, a seconda della foto, ok? Magari una è venuta male nella vita reale, una gnocca clamorosa, noi poi andremo a fare anche quello nella vita reale, guardando le foto su Instagram! Bene sì, i miei capelli hanno vita propria, però siamo vicino ad Halloween, raga, fate finta che sia una parrucca! Gettone draft e iniziamo, vediamo un attimo il modulo, perché andremo anche a giocare! 3, 4, 2, 3, 1, raga, è il più vicino al mio, al 4, 2, 2, 2, 4, 2, quindi utilizzeremo il 4, 4, 2, let's go! Vediamo? Il capitano o la capitana? Capite raga, c'era Vinicius, vedete, vedete, c'è Vinicius, devo prendere mid, mid, pure 5 skill! Però raga, Vinicius e Vinicius, ma sono costretto a prendere mid! Diciamo la verità, come campionato in nazionalità c'è andato anche abbastanza bene per l'intesa! Andiamo con i difensori, partiamo dai difensori, partiamo calmi! Oh mio Dio, raga, allora, allora, fermi tutti, dobbiamo pensare anche all'intesa! È inglese dell'Arsenal e non possiamo farci nulla, non possiamo farci nulla, quindi prenderemo Van Dijk, raga! Raga, belli lunghi, guardate che bella donna! Secondo difensore, vediamo! Ok, ok, se la combattono! Io dovrei andare per la bellezza, non per l'intesa, giustamente, però tra le due, in realtà, preferisco Pepe! Preferisco Pepe, in realtà, Pepe con una parrucca, ragazzi, incredibile! Ma vicino, eh, perché... Eh, raga, eh, eh, che cazzo... Eh... Che anno sono? 97, 90... Dai, più vicino all'età mia, dai! Prendiamo quella del 90, che è tra tutte e due, in realtà, perché io sono del 91, quindi siamo vicini! Portiere, l'intesa, ole! Ok, direi che per l'intesa, lui è perfetto, olandese, della Premier, let's go! Terzino destro? O terzina? Allora, le donne... Ok, oh, raga, ma neanche a farla apposta! Neanche a farla apposta! Raga, guardate che triple intesa qui! Adesso non c'è stato un bel combattimento, eh! Ok? Dai, veramente, però va bene, è l'unica donna, non è l'unica donna, non è vero! Scusa, Catele, scusa, dovrebbe... È dell'Arsenal, allora, devo farmela piacere! Sì, dai, raga! Cioè, vediamo un po'... No, 88, 94... Raga, è una... Oh mio Dio, è complicato qui, eh! Esterno sinistro, però l'intesa... Oh, ci siamo, porca miseria! Neanche una ragazza, quindi si fa l'intesa, per forza, l'unico da Premier, se è te! Let's go! Che squadra di merda, raga, che tra l'altro non ci dà... Che c'è... Ok che c'è la Vinicius, però... Ok, è l'unica... Allora, allora... Qua, qua, qua... E qua, 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 che? Non ci sta niente! Prendiamo leva che ce l'ha anche in squadra, dai! Seconda attacchiante! Let's go, baby! Let's go, let's go! Ci sono due donne... Due donne... Una del City e una dell'Atletico... In realtà, ragazzi, qua... È al contrario il video! Sceglia la più brutta! Che che c'è? C'è? Eh, dai, no? Aiutatemi, cacchio! Questa è una busta, cioè, 69 di velocità, però fa intesa! E c'è pure cacciatore! Questo è un fenomeno! Qual è la più bella? Il capello blu, dai! Il capello blu mi piace... Non c'è da niente con l'intesa, però mi piace più il capello blu! Sincero, mi piace più il capello blu! Non perché sia più forte, ma perché mi piace più il capello blu! Oh, quattro donne! Lei ce l'ha in squadra quella del pass potenziato, 85, raga! È un mostro, vi giuro, fortissima! Fortissima! Lei è pure carina, eh! Angel è carinissima, raga! Ora non vedete la foto qua, ma è carina, molto carina! Angel, raga, avrei preso... Avrei assolutamente preso quella dell'Arsenal, però mi piace più Angel! Quindi siamo onesti qua, ragazzi! Siamo onesti! Ma è una bella gnocca vera! Quando esce? Ok, ok! Ah, Van Dijk! Eh, devo mettere per forza una donna, raga! Van Dijk! Non vorrei che mi uscisse... Ok! Raga! No, eh! Non scherziamo! Non è che mi esce una... No, devo mettere... Van Dijk potrebbe uscire! Ah, c'è... Bella! Lei, raga! Lei, mi dispiace, Arsenal, amica mia! Lei è proprio bella! Raga, l'intesa è 13 per adesso! Vediamo di aggiustare qualcosa! Oh mio Dio, tutte donne! Allora... È qua, raga! La più carina è lei! Eh, per forza! È lei! Cioci è lei! Togliamo le più carine! L'unica donna! Porco! Potevi non uscire! Potevi non uscire! C'era Bellingham, raga! Bellingham, dai! Andiamo con lei! A me lo fa in tese, è pure inglese! Kelly! Oh, oddio! Cioè... È Squiddy! È SpongeBob! Kelly la voglio perché è il playstyle! Illusionista! Vabbè! Piano piano l'aggiustiamo! Piano piano l'aggiustiamo! Vedi? Perché? Allora, poteva uscire adesso una donna? Sono tutte buste! Tra queste due, che ve dico? Eh, che ve dico? Cioè, che ve posso dire? Non mi esprimo! Ah, raga, ma che cazzo di draft è uscito? Dai, Sireme! Ma che draft è? Ma che draft è? E dai, no! Ma poi non escono più le ragazze! Perché mi hai dovuto uscire? Perché tu? Perché? Ti hai dovuto uscire insieme a Bellingham, te! E perché? Te insieme a Vinicius! Perché? Vi giuro che il raspatore mi sembrava una ragazza con i capelli corti! Pazza, che draftino, raga! Riepilogo! Ma non lo voglio vedere! Ma che è? Io, raga, ho paura di giocare, raga! Io ho paura di giocare! Come faccio a giocare? Se la vedo brutta spengo la luce, lo dico subito, poi non vedete me, eh! Spengo la luce e gioco serio e arrabbiato! Dai, raga, non voglio neanche vedere la squadra dell'avversario! Questo vedrà la mia e penserà, ma questo è scemo! Sì che sto scemo! Che avrà trovato questo? Il fenomeno come minimo, guardate, eh! Ma non me la potete dare a me, Hansen? Scusatemi! Chi ha messo pausa? Ok, allora, 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 facciamo i cambi! Tavernier, non mi interessi! Ok, che devi mettere! Oh, lo scherziamo! Capirai, Hansen, ciao! Oh, ma che cazzo! Mid, l'unica 5 skill della squadra! Vedi Lewandowski! A Lewandowski! Ma come cazzo fa che sta fuori gioco? Chi ha messo? Su! Come pressa sto rincoglionito! Levati! No! Vai Lewandowski! Sostengono la manovra qui! A metri a disposizione! Regola e cosa! Vantaggio assombrato! Per dillo! Intervento decisivo! Ma questo gioca da... Cioè, raga! Dai, Akelli! L'animaccia tua! Non mi puoi sbagliare queste cose! Questa c'è la squadra della vita! Porca miseria! Noi ci abbiamo, non lo so! Vai! Pit! Pit! No! Ok, 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 ok! Possiamo farcela! Putala dentro! Su! Quit! Quit! Ah, fraccia, avevi una squadra della madonna, eh! Non quit! Quit! Non, 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 non